Panasonic Toughbook è presente al Chienergy Ecomondo di Rimini perché? Perché siamo qua per presentare la gamma di tablet, pc e palmari resistenti. Quindi siamo qua per servire, per aiutare le aziende che hanno operatori sul campo. Operatori che devono raccogliere dati, elaborare dati, lo possono fare con le nostre macchine. Sono pc, tablet e palmari ultra resistenti, rugged, quindi resistono alla polvere, resistono all'acqua, alle cadute e hanno batterie che coprono almeno l'intero ciclo lavorativo.